Ciao a tutti e bentornati! Questa settimana Endless Love promette di tenerci incollati allo schermo con momenti di altissima tensione e colpi di scena inaspettati. Gli episodi in onda su Canale 5, da lunedì 4 a sabato, 9 novembre. Ci porteranno a fare i conti con segreti, tradimenti e scelte difficili. Curiosi di scoprire cosa ci aspetta? Mettetevi comodi e iniziamo! Emir, come sempre maestro della manipolazione, fa a Zeynep una proposta da brividi. Zeynep è disperata. Vive ogni giorno con la paura di finire in prigione per la morte di Ozan, il fratello di Nihan. Emir non perde tempo e decide di sfruttare questa sua fragilità proponendole un patto che, apparentemente, potrebbe salvarla. Ma ha un costo altissimo. Il suo piano? Zeynep dovrebbe incolpare Kemal, suo stesso fratello, per la morte di Ozan. Di fronte a una richiesta simile, Zeynep rimane scioccata e si rifiuta categoricamente. Come potrebbe mai tradire Kemal? Lui è sempre stato un punto fermo nella sua vita, la protetta da tutto e tutti. Eppure Emir non si ferma. Sa come colpire dove fa più male e insiste senza scrupoli, fino a far leva su un aspetto delicatissimo, cioè la gravidanza di Zeynep. Il peso della scelta diventa insostenibile. E tra l'angoscia per il futuro del suo bambino e il senso di colpa, Zeynep cede. Ma quanto riuscirà a sopportare? Forse ha accettato solo per proteggere suo figlio. Ma a quale prezzo? È davvero questo il futuro che desidera per loro? Nel frattempo, Kemal e Nihan si trovano a dover fare i conti con la complessa ricerca della verità sulla morte di Ozan. Ormai sanno che dietro a quell'omicidio c'è qualcosa di oscuro e insospettabile. E sono determinati a scoprire chi si cela dietro questo intrigo. È a questo punto che entrano in contatto con Akan, un personaggio che sa molto più di quanto non dica. Durante un incontro teso e carico di aspettative, Akan rivela a Kemal dei contatti importanti, qualcuno in grado di svelare l'identità del colpevole attraverso un dettaglio apparentemente insignificante, un'impronta su un bottone. Questo piccolo indizio può sembrare banale, ma per Kemal e Nihan è una porta verso la verità. La loro determinazione è impressionante, tanto che sono disposti a tutto, anche a sacrificare la loro sicurezza. pur di capire cosa sia accaduto veramente. Questo caso non riguarda solo la giustizia. È una questione di onore e amore per Ozan, una promessa a se stessi di riportare alla luce ogni minimo dettaglio. Ogni giorno Zeynep si sente più intrappolata in una rete che non riesce a sciogliere. La manipolazione di Emir è crudele e costante, non le lascia spazio per respirare, e lei sa che è ormai in suo potere. Emir le fa pressione da ogni lato, usando il suo futuro bambino come un'arma, un ricatto spietato. Zeynep, stretta nella morsa della disperazione, lotta internamente tra l'amore che prova per suo fratello e la paura di perdere tutto. Ci immaginiamo il suo tormento, la sua vita è una prigione senza vie d'uscita, e anche se detesta l'idea di tradire Kemal, sente di non avere alternative, la tensione si accumula e ogni momento è un'altalena di emozioni che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Quanto riuscirà a reggere? In questo turbine di tensioni e segreti, Kemal cerca di creare un piccolo angolo di felicità organizzando il compleanno di sua figlia Denise. Vuole regalarle un giorno speciale, un ricordo luminoso in mezzo alla tempesta. Decide quindi di festeggiare a casa di Fehim e Huseyin, sperando che questa celebrazione possa distrarre anche Nihan per una volta. Ma c'è sempre Emira a minacciare la serenità, e Kemal lo sa. Non vuole permettergli di rovinare questo momento e così elabora un piano per tenerlo lontano dalla festa. È uno di quei momenti in cui vediamo il Kemal più tenero e protettivo, disposto a fare qualsiasi cosa pur di proteggere la felicità di Denise, anche solo per un giorno. Vuole che sua figlia sappia che, nonostante tutto, ci sarà sempre un padre che lotterà per lei. La festa, semplice ma carica di significato, rappresenta uno spiraglio di serenità, ma sappiamo che questo fragile equilibrio potrebbe rompersi in qualsiasi momento. Nel corso delle loro indagini, Kemal e Nihan riescono a parlare con il medico coinvolto nell'indizio dell'impronta sul bottone, una figura chiave che potrebbe confermare o distruggere tutte le loro teorie. Il medico appare sicuro, si presenta con un alibi di ferro, sostenendo di essere stato lontano da Istanbul per un anno intero. Ma proprio quando sembra che non ci sia nulla di utile, emerge un dettaglio. Al suo rientro in città, aveva notato la sparizione di una camicia. Questo piccolo particolare diventa improvvisamente importantissimo per Kemal e Nihan. È l'indizio che collega tutto. Quella camicia potrebbe essere stata indossata dal vero colpevole la notte in cui è stato ucciso Ozan. Con questo nuovo pezzo del puzzle, i due sentono di essere più vicini alla verità, ma dovranno stare attenti. Più si avvicinano alla soluzione, più i rischi aumentano. La verità ha un prezzo e loro sono pronti a pagarlo. Alla vigilia della festa di compleanno di Deniz, Kemal si avvicina a Zainab per rassicurarla, promettendole che farà tutto il possibile per proteggerla da chiunque cerchi di accusarla ingiustamente. In quel momento, Zainab sente un filo di speranza, come se qualcuno finalmente stesse dalla sua parte. Ma quella speranza dura poco. Non appena esce di casa, riceve una telefonata da Emir. Lui le chiede di fare una chiamata misteriosa utilizzando il telefono di suo fratello. Un'azione che potrebbe compromettere tutto. È un momento di altissima tensione. Zainab capisce che sta per attraversare una linea dalla quale non potrà più tornare indietro. Le conseguenze potrebbero essere devastanti, ma Emir è troppo abile nel tenerla sotto il suo controllo. Cosa farà Zainab? Riuscirà a sopportare il peso di questa scelta? Per chi avesse bisogno di un piccolo ripasso, ricordiamo cosa è successo a fine ottobre. La polizia aveva iniziato una caccia serrata per scoprire il nascondiglio di Kemal e della piccola Deniz. La situazione si era fatta pericolosa, soprattutto perché Haqqan, grazie a informazioni ricevute proprio da Zainab, aveva scoperto la verità su Deniz. È figlia di Kemal. Nonostante questa scoperta, Haqqan ha comunque emesso un mandato d'arresto per Kemal, accusandolo di rapimento. Allo stesso tempo, Emir non ha perso tempo e ha intensificato la sorveglianza su tutte le persone vicine a Kemal. La tensione era alle stelle e Kemal si convince sempre di più che qualcuno tra i suoi conoscenti stia facendo il doppio gioco. Questa è una settimana ricca di emozioni, segreti e scelte difficili che vi lasceranno con il fiato sospeso. Emir e Zeynep saranno al centro dell'attenzione con il loro piano, mentre Kemal e Nihan non smetteranno di lottare per la verità su Ozan. Ci sono domande che continuano a risuonare. Riusciranno a scoprire chi è il vero colpevole e fino a dove si spingerà Zeynep per proteggere se stessa e il suo bambino. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni di Endless Love. Scrivete nei commenti cosa ne pensate e quale personaggio vi ha colpito di più questa settimana. Grazie per averci seguito e alla prossima!